Ci sono alcune cose che sono più belle di altre come il suono delle città la mattina quando non c'è nessuno. Qui a Sant'Antonio siamo solamente io e il gatta mitico ingegnere gatta melata. Adesso prendiamo la nostra scoda scala a metano andiamo a Malpensa perché stasera c'è una presentazione molto importante che poi ho salutato il gatta ma non ho salutato Sant'Antonio mitico qui c'è il mitico boho è uno dei migliori ristoranti di Padova secondo me si mangia bene, è molto carino anche originale sicuramente non ci siete mai stati, carino madonna cosa si incontra una R12 S mi piaceva tantissimo l'HP2 Sport che aveva le saponette qui sulle teste però anche questa ha il suo perché proprio un mezzo di ingegneria tedesco ferro incredibile perché è una moto da corsa con il motore del GS fondamentalmente quindi va beh questo incrocio tra due mondi che è molto figo bella ed eccola qui la prima protagonista di oggi ovvero la scoda scala a metano tra l'altro nell'allestimento Monte Carlo quello un pochino più fighetto un pochino più sportiveggioante eccola qui è il logo che nasce per andare ad impreziosire in realtà quella che è una macchina molto economica da un punto di vista di costi di gestione oggi voglio anche scoprire se ancora così economica sì perché qui dietro manca un badge molto importante ovvero quello della tecnologia G-Tech del metano che permette a questa macchina di portare con sé 13,8 kg di appunto carburante alternativo mettiamola così che purtroppo in questo periodo ha subito almeno il raddoppio del prezzo di listino quindi dall'euro al chilo si passa a 2 euro 2 euro 50 al chilo che non è assolutamente poco ti fa venire ancora il dubbio ma conviene ancora andare a metano tra l'altro un bello spazio all'interno del bagagliaio è una macchina anche tecnologicamente furba perché c'è di tutto e di più esattamente come su tutte le produzioni con la piattaforma MECUBI A0 degli interni certo che sono personalizzati con questa riga rossa non sono il massimo della vita per quanto riguarda la fantasia e il design ma però è molto concreta e molto funzionale tra l'altro c'è veramente tutto come vi dicevo questa scala è a metano quindi ci sono i due indicatori nativi li vedete ecco li qua uno a destra e uno a sinistra quella a sinistra è quello del metano CNG e quella a destra invece è quello della Benza adesso subito prima tappa non tanto per fare colazione ci fermiamo a Padova Ovest c'è un autogrill con il metano facciamo il pienone e poi riguardiamo allora abbiamo 75 chilometri di autonomia all'operatore sono arrivato boom al volo adesso non c'è tanta coda questa mattina come vedete la pompa del metano è leggermente diversa rispetto a quella della Benza ci sono i distributori appunto apposta volendo adesso sono anche self service per cui alcune delle limitazioni di questa tecnologia si sono risolte il prezzo è di 2 euro al chilo per fare il pieno ci si mette un pochino di più rispetto alla benzina ma veramente tipo un minuto in più ecco una cosa abbastanza relativa ok la pressione all'interno delle bombole molto alta inizia ad alzarsi ed è per quello che il sistema che mantiene la pressione fa fatica eccolo qui end quindi si è riempito adesso paghiamo e andiamo qui 9,82 kg di metano 19,73 euro con un pieno si dovrebbero percorrere circa 400 chilometri con un pieno di metano invece con il pieno di benzina almeno gruppo volkswagen dichiara per questa macchina skoda dichiara per questa macchina 220 chilometri secondo me nell'uno nell'altro sono valori realmente veritieri ma 300 350 chilometri sicuro se fanno anche un'autostrada con il metano quindi dovrei arrivare a malpensa con il pieno mentre con la benzina si 150 chilometri più o meno si dovrebbero fare adesso pago però davvero andiamo perché sono inizio a essere un tardi quindi ripartiamo come razzi sono un po in ritardino per fermarmi a fare colazione anche perché poi in a4 ci entri ma non sai quando ci esci per cui meglio che vado cruise control adattivo tra l'altro a velocità codice macchina che nonostante i suoi 90 cavalli del 1000 turbo tre cilindri è molto silenziosa perché in sesta marcia si viaggia sia 3450 giri ma come sentite è più forte il rotolamento degli pneumatici che il rumore stesso del motore questo perché la piattaforma mqb e la relativa a zero integrano bene questo piccolo motorino viene utilizzato un po su tutte le vetture del gruppo alla base chiaramente della gamma e questo consente di avere sì poca vibrazione perché non vibra tantissimo anche nelle fasi di accelerazione poi anche una buona silenziosità quando si va in autostrada anche perché è vero che il motore piccolo di cilindrate non ha tantissimi cavalli ma questa macchina può essere utilizzata tranquillamente perché no anche per fare tanti chilometri prendendosela un po comoda ma per fare tanti chilometri che poi prendendosela comoda è un concetto relativo perché 180 all'ora di velocità massima comunque li fa certo l'accelerazione a zero centro non è un fulmine di guerra però comunque è una macchina che i suoi chilometrini appunto anche grazie ai sistemi come il cruise control adattivo come la sterzata automatica quindi la macchina rimane autonomamente in corsia vediamo se lo fa sì vedete che riprende la diciamo il vostro errore di guida la vostra la vostra distrazione riprende alcune situazioni che chiaramente possono essere pericolose nel corso di una giornata vi da una mano sicuramente a viaggiare più sicuri però la mia vera curiosità è se partendo da Limenella ce la faccio no arrivare con un pieno di metano a Malpensa non lo so anche perché fare vado a Malpensa con 20 euro è ancora molto poco allora dobbiamo fare una piccola deviazione sul percorso perché evidentemente c'è il classico incidente per cui usciamo l'ospitaletto 10 euro 80 il problema è che arriverò alle 9.03 e l'aereo c'è una coda pazzesca ma veramente pazzesca non lo so se ce la faccio a prendere l'aereo tra l'altro adesso mi fa uscire a Monza vedi intanto 100 chilometri di autonomia allora non manca molto 22 minuti 37 chilometri arrivo alle 9.18 speriamo sono abbastanza al limite però ci siamo l'aereo le 10.10 sono sulla piede montana è una strada occhio quando passate di qua perché non tutti conoscono diciamo il limite di questa autostrada perché qui non ci sono i caselli ma c'è il pedaggio e uno dice scusami ma come fai a pagare? eh devi andare su pedemontana.it.com non so cosa sia e devi pagare e devi mettere la targa e devi pagare a meno pedemontana.com a meno che tu non c'hai il telepass però io qua su questa macchina il telepass non ce l'ho e quindi devo andare sul sito a pagare metti la targa e paghi però ricordatevi perché se non pagate vi levano due punti sulla patente due punti una volta li ho presi tra l'altro eh occhio ma non perché non volevo pagare l'autostrada quel giorno ho fatto mancato pagamento perché avevo lasciato a casa il portafoglio non lo trovavo più non ricordo cosa è successo e niente praticamente questa strisciolina che ti danno poi mi sono dimenticato di pagarla forever e niente è arrivata quella roba la incredibile ma vero siamo arrivati a malpensa a quello qui l'aeroportone parcheggiamo al coperto e poi speriamo di riuscire a prendere lo suo aereo siamo arrivati abbiamo parcheggiato mi sono rimasti 35 chilometri di autonomia e un ottavo lo vedete di serbatoio eccolo qui quindi con un pieno di 20 euro ce la si fa tranquillamente a fare padova a malpensa che sono un bel po di chilometri perché sono quasi 300 per cui tanta roba non è male con una macchinina come la smart per intenderci spendo molto di più spendo una quarantina di euro forse circa 20 litri si spende ancora la metà incredibile possiamo ancora dire dunque che il metano ti dà una mano da una mano a risparmiare e noto con piacere che anche a malpensa oltre che a linate finalmente hanno rifatto gli stalli dei parcheggi perché non diventa soprattutto linate erano improponibili cioè non potevi più parcheggiare praticamente erano larghi due metri credo ci stava la 500 vecchia ma solo solo che c'erano due SUV uno di fianco all'altro praticamente non riuscivi neanche più a aprire una porta era diventato però il prezzo era folle quindi per fortuna ho sistemato sta roba e adesso si parcheggia una cosa che è accaduta da qualche mese però almeno evidentemente qualcuno gliel'ha fatto notare è che per fare questo hanno aumentato il prezzo di listino banalmente ci vengo talmente tante volte a questo aeroporto che dovrebbero darmi la residenza onoraria qui a malpensa tra l'altro c'è stato un periodo in cui ho avuto la carta di identità di ferno l'ho rifatta qua sotto questo è il comune di ferno qui all'aeroporto di malpensa e avevo la carta di identità fatta dal comune di ferno fantastico bellissima perché ero venuto qui senza documento e praticamente me l'hanno rifatto quasi al volo tre ore ci hanno messo stati bravi però sono partito quella volta molto bene adesso andiamo al W che è quell'albergo così sulla spiaggia di barcelona tra barcelona a livello di spiagge non è mai stata messa benissimo anzi gran parte delle spiagge che ci sono sono nate durante le olimpiadi del 92 barceloneta quartiere che praticamente è venuto fuori da zero ma poi anche diciamo tutte le zone tutte le spiagge sono state riqualificate durante le olimpiadi barcelona ti ricordate comunque il W è molto figo è molto più bello fuori che dentro però anche dentro non è male eccolo lì il W adesso ci andiamo la meravigliosa del classe gmg amico mio ottima comunque anche la borna la sua perché c'è una classigina tra roba ma la borna ma so perché mi porto all'interno dell'albergo vi faccio vedere com'è eccolo qui questa è la hall c'è la coda provocata dai colleghi giornalisti questo è l'interno adesso facciamo il check in sono l'una e 15 molto lunga la registrazione ci stiamo registrando ma tocca quasi a noi ok 702 ho altri 19 piani sopra 702 eccola qui ed eccola qui la stanza ciao ben arrivati bella bellissima molto bella scrivami a letto mochetto un po psycho qui sotto ricordo un po il mare ci sta una bellissima vista di qua un po meno della le giostre questo sembra sembra il trennino dell'uno park qui sotto c'è una piscina fantastica e poi appunto una bella vista su quello che è un quartiere relativamente nuovo di barcellona a questo punto non mi rimane che stirarmi la camicia vediamo e poi partire perché vedi negli alberghi quelli un pochino più giusti eccolo qui c'è il ferro da stiro ed è molto comodo allora camicia stirata non è male tutto sommato è anche civile posso fare di meglio con il mio avrò da stiro il mio asse ma ci siamo detto questo vi faccio vedere qual è l'omaggino di questo evento non sempre succedono queste cose in realtà questo è proprio un così un presentino per un anniversario un po particolare quello di cupra che è appunto un brand che è nato da poco ma che ci tiene a così a farsi notare e giustamente hanno fatto questo braccialetto in fibra di carbonio eccolo qui lo vedi che è un omaggino per ogni ospite che regalo al primo che mi dice cosa si intravede all'interno di questo logo si vede qualcosa poi magari lo dico più avanti però lo mischio nel video dai a questo punto è arrivato il momento di andare a mangiare quindi scendiamo è super lunga questa giornata perché adesso alle tre abbiamo il pullman per terra mare che è una vista bellissima che adesso vi faccio vedere ma poi rientreremo stasera verso mezzanotte sono le due il pullman ce l'abbiamo alle tre per cui stiamo fuori un bel po troppo bella la spiaggetta qua sotto è proprio sotto all'albergo vedete quella lì la w si sta girando intorno l'aereo guarda che bellino sta da dio guarda carino sembra quasi fatto apposta detto questo spiaggetta sempre molto bella qui non c'era nulla ed è venuto fuori veramente un bel portiere piattino così composto questa non so nemmeno io come definirla una specie di insalata greca orecchietta con formaggio a pioggia e poi due pezzettini di questa focaccina tra l'altro sono un grandissimo sostenitore del non prendere la pasta all'estero soprattutto in spagna diciamo ci sono altre cose da mangiare da queste parti però avevo fame ed in effetti avrei fatto meglio non prenderla perché scotta che metà basta però questa ne ho già mangiata una e si salva siamo arrivati qui a terramar circuito fotonico fotonico bellissimo 1922 ci sono delle paraboliche adesso lo facciamo ci sono delle paraboliche assurde ma veramente assurde qui il gran premio inaugurale è stato vinto da albert vivo nel 1923 la pista è stata costruita nel 1922 per cui ho la bella e loca a dirlo perché questo è un autodromo spaziale andate a vedere la mappa di come è fatto comunque albert vivo ha vinto la gara inaugurale nel 1923 è stato costruito nel 1922 quindi a 100 anni questo posto ma è tutto parabolica cioè anche il rettilino c'è la parabolica vedi che in realtà non è un rettilino è tutto curva ma in realtà sono due curvoni raccordati da delle semi curve spaziale spaziale veramente spaziale e sotto a questi teli abbiamo le macchine che accompagneranno cupra da oggi fino al 2025 anno in cui il 2025 vedremo della roba nuova sicuramente la urban rebel concept che vi ho già fatto vedere e altra roba che magari vi faccio vedere dopo comunque io da questo punto di vista sono veramente old school per quanto mi riguarda le formula 1 dovrebbero correre piste come queste poi vedi tra l'altro 160 di media con macchine tra l'altro ne ho guidata una quella che ha vinto nel premio d'italia nel 21 assurde cioè delle robe che pensare di andare a 160 di media di media tanta roba guarda che parabolica vedi eccola qui è una parabolica assurda una pendenza micidiale è molto più grande rispetto alla parabolica di monza ma molto più grande da un punto di vista proprio di sviluppo del tracciato ed è veramente una figata guarda che razza di parabolica incredibile troppo bella tra l'altro il punto più alto vedete il punto altissimo guarda che roba è spaziale veramente spaziale qui c'è una pendenza realmente assurda adesso qui la telecamera dritta ma è veramente incredibile faccio veramente fatica a salire vedi guarda qui dietro cosa c'è un fiume tipo il letto di un fiume ciao bellissima veramente bellissima non è un posto nuovo questo in realtà per cupra il debutto del brand era stato qui anche con seat diverse volte abbiamo usato questo autodromo per degli eventi e si vede che loro ci tengono poi a questa pista perché come vedi hanno fatto qui una sorta di padiglione fieristico vedi come è fatto ma che bello all'interno del quale possono fare tutte le feste che vogliono in attesa di intervistare in tavola rotonda i dirigenti del marchio cupra usciamo qui in terrazza che è stata allestita all'interno della pista sulla quale poi immagino che mangeremo questa sera adesso facciamo un giro di round table con antonino labatte mitico che è il brand manager di cupra tra l'altro uno anche dei fondatori insieme a luca dameo bellissimo guarda gianna cosa ti faccio vedere è una parte di questa serata è un oculus tipo è in realtà virtuale in realtà aumentata non so cosa ci faranno vedere qua dentro il metaverso il metaverso il metaverso può essere però magari vediamo il tonino magari vediamo pure giannetti metaverso beh basta questo ripendo lo voglio antonino labatte brand manager di cupra ci siamo visti quattro anni fa qui a terra mar mi ha detto una cosa fantastica che me la ricordo da allora ovvero il brand cupra è di color rame perché il filo del telefono è fatto di rame e mette in connessione le persone in effetti poi questo marchio avevi questa idea già all'inizio ed in effetti questo marchio ha messo in connessione persone voi state lavorando per fare in modo che questo continui ad esistere è vero assolutamente sì lo ripeto lo continuiamo a dire cupra è un brand movement è una tribù fatta da persone come dice qualcuno affermazione che mi piace molto che va molto più in là delle solo ti volevo chiedere un'altra cosa rapidissimo perché stanno come dire ci sono i preparativi per la per questa serata vedremo macchine fino al 2025 quello che vedremo poi 2025 al 2030 tutto elettrico la configurazione che avete dato a questo brand però è di macchine sicuramente speciali però comunque diciamo in segmenti generalisti per cui fate dei sub fondamentalmente ma fate anche altre tipologie di vetture quello che volevo chiedere è c'è spazio per fare una bella sportiva una cabriolet una cupettina piccolina leggera ogni volta che ci incontriamo mi provochi con questo desiderio del sogno perché so che sei un sognatore fondato Abarth e ripetiamo sempre la stessa cosa sono quattro anni che siamo nati dateci il tempo di rendere ok la marca robusta e poi come tanti sogni che abbiamo portato avanti in questi quattro anni chissà una bella auto sportiva come quelle che piacciono a te o piacciono a me mi piace certo gli appassionati di performance di auto sportive perché comunque avete fatto un gran bellissimo un gran bellissimo lavoro formentare un'auto insenzionale merito anche tuo merito del genio italiano merito comunque anche di un team di lavoro straordinario assolutamente straordinario sì assolutamente straordinario una tribù di super talenti con uno spirito distruttivo ribelle che non hanno paura di nulla piccola sfilata di vetture le hanno scoperte rispetto a prima questo è il prototipino della extreme e con la quale cupra corre appunto il campionato fondato recentemente da gag tra l'altro si corre con un equipaggio misto quindi uno pilota e una pilotessa molto figo e il concetto di correre off road è sicuramente qualcosa che sta piacendo molto alle aziende dell'auto ed infatti anche cupra e non solo si stanno impegnando in questo campionato qui abbiamo una tcr e tcr questa una tcr questa è una tcr e quindi quella elettrica questo è un campionato in via di sviluppo è iniziata la prima parte diciamo della stagione lo scorso anno se vi ricordate ho guidato la hyundai macchina che aveva fino a 800 cavalli campionato la forma di campionato è sicuramente molto particolare e molto originale e trae spunto chiaramente dal tcr dove non si corre con il motore elettrico ma si corre anzi si corre in quel caso con due anzi con quattro motori elettrici perché ce ne sono due per ruota sull'asse posteriore invece qui c'è il motore a benza 2000 turbo compresso 350 360 360 cavalli di potenza poi dipende dal bop e chiaramente fa parte il tcr di un universo di competizioni in cui si gioca sia a livello mondiale appunto con il campionato del mondo WTCR ma anche si gioca tra virgolette nelle serie nazionali dove appunto queste macchine possono essere venute ai clienti sportivi attraverso i canali del customer racing andiamo avanti bello questo Ateca ABT quindi abiti che app anzi perché è cognome del preparatore prepara anche seat dopo aver preparato per anni audi guardate che bellina ha messo mano direi molto bene al subino di casa cupra andando a personalizzarlo nei cerchi molto belli parte che belli nell'estetica è chiaramente con i terminali a krapovic quindi la zona posteriore e altri piccoli dettagli credo anche all'interno che consentono a questa macchina di essere chiusa purtroppo di essere ancora più particolare rispetto a una teca tra virgolette tradizionale bella sicuramente molto originale qui andiamo di cupra born macchina elettrica con un pacco batteria diciamo leggero perché contenuto nella dimensione è intelligente perché hanno cercato di giocare la piattaforma meb in chiave prestazionale non va nemmeno male ha un'autonomia più che discreta ed è sicuramente una macchina interessante nel contesto delle macchine elettriche questa è una figata pazzesca perché è una vz 5 quindi di fatto è la meccanica della nuova rs3 2021 quindi con il differenziale autobloccante posteriore controllo elettronico trasplitter quindi abbiamo la capacità di accelerare singolarmente le ruote al posteriore generando dei fenomeni appunto di sovrasterzo indotti chiaramente dell'elettronica che permettono a questa macchina di essere bellissima veramente bellissima da guidare con un sound fotonico visto che parliamo dei cinque cilindri audi molto bello guardate un po anche l'impianto frenante con la pinza a 6 pistolcini top qui abbiamo la formentor e hybrid siamo in una macchina un pochino più normale chiaramente rispetto alla vz 5 con il motore plug in 1.4 e poi l'assistenza della batteria la leon sp vz cap anche qui siamo sempre al top guardate che bella bellissima stupenda che roba ragazzi anche qui abbiamo un'altra vz cap però non abbiamo la station wagon e poi chiudiamo questa piccola rassegna con la ateca guarda un po eccola qui normale tra virgolette tanta roba cooper è cresciuta tantissimo in questo periodo in questi quattro anni di strada è stata fatta tanta e adesso ne farà altrettanta grande eroe in casa giordi genè eccolo lì davanti alla urban concert credo che si chiami non stanno intervistando vanno pazzi per giordi qui in spagna il fratello di mark ed è un pilota eccezionale la leggenda narra che giordi si è anche più forte rispetto a marca tenete conto che marca ha vinto la 24 ore di Le Mans e svariati i campionari questa è un'altra lounge che è stata allestita sotto la tribuna del circuito di tarramarra è stata fatta qui la presentazione la prima volta quattro anni fa è un luogo lounge tra virgolette quindi immagino la seconda parte della serata che stasera la faremo qui di sicuro facciamo la prima parte dopo la tavola rotonda che abbiamo fatto con il mitico lavate mi prendo un cocktail è carina sta cosa ci sta anche perché fa un caldo boia fuori buono molto buono senza qualcosa ci sta esattamente qua quattro anni fa c'era la ibiza di una generazione che non si è mai vista ed è un grosso peccato perché era una macchina molto figa probabilmente le avrebbero vendute poche non hanno avuto coraggio di farla ma era una macchina molto bella invece questi sono gli interni il nuovo concept interno della nuova urban rebel concept con il copper appunto detailing e una serie di elementi tecnici particolar modo per quanto riguarda appunto gli interni come questo schienale lo vedete questa è la parte lo schienale della del sedile della concept ma non è detto che non arrivi anche nel modello di serie con una tecnologia di materiale che ricorda molto quello delle scarpe da ginnastica più tecniche quindi uno sviluppo per quanto riguarda i materiali ma anche la costruzione perché viene fatto tutto direttamente sul telaio dove viene tessuto tutto quel elemento quindi è una figata pazzesca si evolve non solo l'esterno appunto da un punto di vista design ma anche l'interno si spacca di brutto ma di brutto vero la formentor vz5 firmata da abt ve l'ho fatta vedere prima ma ho tagliato ve la faccio rivedere così in questo nero con cui è esposta davanti alla tribuna dell'autodromo guardate la bellezza di questo sub vino che anzi sub medio che chiaramente porta con 6 400 cavalli da 5 cilindri audi e una personalizzazione di abt che parla di scarico che parla di cerchi che parla di elementi anche a livello di colorazione che chiaramente consentono a questa vettura di essere fotonica come firmate dalla continental 255 30 21 dietro ma chiaramente anche davanti questi cerchi lavorano per celare un evento frenante assurdo con una pinza 6 pistoncini anche questa color rame e una bella disco in gisa con la campana in alluminio tra l'altro presso fusa bella come ho fatto ficcata veramente bellissima con sempre una sport contact 255 30 21 bella anche la urban rebel qua siete qui nella variante da corsa ve la faccio vedere guardate che bellina veramente un oggettino al top che adesso si va a fare un giro qui a terra mar tra l'altro dopo magari ve lo faccio conoscere qui dentro c'è un discendente della famiglia porsche quindi alte cariche per alta presentazione sentite la macchina elettrica e poi dietro che sentite è il 5 cilindri evento molto importante lo si capisce anche dalla presenza di un discendente della famiglia porsche per chi non sapesse porsche è proprietaria della baracca fondamentalmente non solamente di cupro ma proprio del tutto il gruppo volkswagen giordi ce n'è grandissimo ciao ciao ti ho visto sfrecciare con il prototipo della urban rebel quella la corsa bellissima è una macchina bellissima è anche super super divertente c'è una macchina che quattro ruote motrice un handbrake ti ferma le ruote subito è una macchina da frena a mano sì ma un vero frena a mano ma fa i traversi qua sulle paraboliche dappertutto chiamiamo iarnone iarno ciao bello ti devo far vedere assolutamente una cosa sei in video te lo dico però devo farti vedere una cosa aspetta eh vabbè mi devo vestire no guarda lo sapevo che lo sapevi che pista è questa beh certo ma sai quante volte sono stato lì bellissima ma quanto bella è ma cosa stai facendo di bella ah c'è una presentazione di cupro ma stai tento perché sbagliata nelle transizioni cioè no ma non giriamo siamo solo siamo solo a vedere ma hai visto che bella straordinaria ma insomma sai quante volte sono stato lì l'ho studiato un casino io mi fai fare zangorca sì le tecniche costruttive come è fatta come non è fatta l'ho rilevata tutta laser sì sì allora il motivo per cui è rotta quella lì e non sono mai riusciti a utilizzarla sono le curve di transizione in ingresso e in uscita delle pendenze perché non ti compensano la laterale ah ok se tu arrivi il cambio di pendenza che hai ok esatto lì il cambio di quota che hai non segue ecco proprio lì a sinistra ok qua sì non segue quel cambio lì esatto non è della lunghezza giusta e della forma giusta rispetto alla compensazione dell'accelerazione laterale mamma mia ma quante ne sai Arno ma quante ne sai Arno Zaffelli ma sai quanto l'ho dovuto studiare questa cosa per riuscire a capire che cosa aveva di sbagliato infatti l'hanno usata pochissimo sì perché l'hanno costruita da Dio e lì da dal dal 22 dal 22 è ancora costruita benissimo perché guarda abbiamo guardato come hanno fatto costruire sono stati veramente i draghi ma l'hanno progettato male quindi la fregata è che l'hanno usata pochissime volte perché le macchine finivano fuori strada non ci credo quindi andavano nel bosco una volta sì e volavano su perché le pendenze le facevano perché le auto non riuscivano a compensare il laterale non avevano le gomme strette allora si inclinavano e schiacciavano tutto in verticale però se a un certo punto tu stai uscendo dalla cura verticale e di colpa ti arriva un'accelerazione laterale vai fuori quindi in realtà questa pista ti è servita per progettare Zandworth vedi che non si butta via niente come il maiale no? sì, no, assolutamente questa qua è stata una pista una delle piste che mi è servita per progettare Zandworth e per riuscire a capire cosa riuscivano a fare quella è inclinata fino a 66 gradi mamma mia e sono riusciti ad andare oltre i 32-35% quindi oltre i 18-19 gradi perché... scusa, no, ho sbagliato dai tone a 33 gradi è il massimo ok quindi di 33 gradi gli asfalti non si fanno infatti loro l'hanno fatto in cemento in cemento, infatti questa qui, sì infatti una delle caratteristiche che mi piace moltissimo è che è in cemento è fighissima sta roba se tu guardi c'è un dettaglio molto particolare prova a guardare il giunto che c'è di dilatazione tra le varie slab di cemento dove c'è un'inclinazione non so se c'è lì c'è un giunto che a un certo punto è diagonale così che sono incastrati ah, per non farli muovere per non farli muovere esatto per non farli deformare certo infatti anche io eccolo qua eccolo qua questo che dici tu eccolo qua, vedi è questo esatto, bravo, vedi congiunto lì? sì c'è quella che è un'opera d'arte da un punto di vista ingegneristica figata, troppo bella sai che non l'avevo notato questo però in effetti è molto figo bellissimo tra l'altro c'è la parabolica anche in rettilineo è tutta parabolica sta pista incredibile vedi che c'è pendenza pure è assurda so che a te piacciono le paraboliche quindi per quello quando l'ho vista sta pista perché ci ero già venuto ma mi si è venuto in mente quindi ho detto devo chiamare per forza di Arnon Zaffelli adesso chiudo che così lo saluto con calma aspetta un secondo dai che mancano pochi minuti all'inizio della conferenza stampa poi vediamo un po' di macchine poi tiriamo un po' di somme e poi forse un primo o poi nemmo a letto stasera però c'è ancora molto tempo al centro di questo stand vedete che c'è una piattaforma rotante eccola qui gireranno le macchine e ce le faranno vedere insomma il format che abbiamo già visto in eventi che si chiamano Volkswagen Loop Night che viene riproposto anche qui in Cupra con delle tecnologie che vi ho fatto vedere prima anche molto fighe detto questo sono le 7 meno 5 più o meno da qua ci muoverò mezzanotte per cui ce n'è ancora un po' di roba per farvi vedere intanto sta arrivando Porsche alla presentazione questa è la tribuna guarda piano lo sto registrando rifaccio intanto sta arrivando Porsche se non eri intelligente niente c'è Giannette che urla per start devi fare i video che devi passare intanto sta arrivando Porsche e sta zitto stavolta è lì adesso probabilmente si sederà qui davanti a noi intanto Gianna ha scoperto che stasera useremo anche l'Oculus qui quello che è allora l'ho acceso anch'io l'Oculus qui eccolo qui spero che si veda qualcosa dalla telecamera comunque più o meno si vede il palco in una versione metaversesca e questa è la cosa che diciamo è un assaggio del futuro che ci coinvolgerà sempre di più troppo liquido Giannetti ah dobbiamo fare una cosa grazie alla visione di questo genio che risponde al nome di Giannetti che senta lo sport giusto in realtà questo logo devo già dirla è una visione che hai avuto tu ma in effetti non è nemmeno stata smentita guardate bene i vuoti e i pieni del logo del logo cupra e assomiglia a un altro marchio se riempite i vuoti e svuotate i pieni dovete dirvi però che marchio è che in effetti Gianna ha ragione a un altro a un altro a questo giorno è un giorno speciale che dovremo lavorare per proporzare la unica e la soddisfacione della performance con ogni modello che ci portiamo a il futuro che ci saranno a fare in questa giornata Allora l'obiettivo di Cooper era nel 2018 fatturare 430 milioni di euro, nel 2021 ho fatto 2 milioni di euro e questi sono i marchi di gruppo volkswagen, giusto qualcuno. Allora la prima uscire è la cubra terramar, adesso la vediamo. Allora l'obiettivo di cooperare Allora l'obiettivo di cooperare Eccola qui la Tavascan, arriva nel 2024 questo è il costo definitivo su piattaforma MEB, quindi una macchina che porta con sé nuovi elementi stilistici per quanto riguarda l'interno, lo vedete anche qui sempre disegnati da Francesca Sangalli, grandissima, designer italiana e chiaramente anche un'evoluzione di quella che è la piattaforma MEB per questa macchina elettrica Che arriverà nel 2024, è 4 metri e 60 di lunghezza, quindi più o meno, aspetta che non vi faccio sentire di qua, vabbè se è un ID5, quindi un ID5 tra il ID4 e il ID5 Abbiamo fatto il momento di vivere questa esperienza con... bello, con l'Oculus in testa, stiamo volando sopra la pista di Taramara, millesimo! E' un'esperienza super immersiva, una figata, molto bello! Figata Jordi che va! Troppo bello, sembra di volare! E' bello anche perchè se ti giri a 360 gradi, vedi tutta la macchina all'interno, che figata, bello! E' veramente bellissima! Vedi questa nuova frontiera anche del commercio volete, perchè se tu ti giri vedi proprio la macchina dentro, vedi? Troppo figo! Una cosa del genere, l'avevo già provato al centro stile di Lamborghini quando mi avevano fatto vedere una macchina che doveva uscire in tridimensionale e devo dire che adesso la sto rivivendo qui con questa presentazione figata, quindi potrete un giorno provare la vostra macchina direttamente a casa per toccare con mano per la prima volta la vostra macchina, la vostra bicicletta, la vostra moto, molto figo! Invece questa è la Urban Rebel Concept, eccola qui! Bellina questa, questa arriva nel 2025, molto carina! Ritirano fuori la Tavascana e la Terramarra e la mettono di fianco alla Urban Concept e sta uscendo un'altra, attenzione! Occhio perché è uscita la Leone, attenzione! La conferenza stampa è finita, foto di rito, foto di gente intorno alla Urban Concept che è l'unica che è rimasta qui sullo stage magari più tardi le tireranno fuori, ma non credo, perché le due Leone ci hanno fatto vedere il profumino che formanno la Tavascana, anche lei, profumino che formà e la Terramar, profumino che formà la Terramarra è fondamentalmente un'avventura che esce nel 2024, non c'entra nulla con la Teca che probabilmente continuerà ad esistere però sotto marchio SEAT questa è una macchina che sarà plug-in sicuramente e andrà però ad insediarsi nella categoria della Teca quindi sarà una vera Cupra però con caratteristiche di SUV di segmento C è un po' più levigata, un po' più morbidina nelle forme per quanto riguarda invece la Tavascana riprende un po' quelle che sono le forme della Born mi vado di qua, riprende un po' quelle che sono le forme della Born le evolve e utilizza la piattaforma MEB quindi è una macchina che anche lei darà la luce nel 2024 con delle caratteristiche di autonomia, di prestazione, tutto quello che volete che probabilmente saranno simili a quelle della ID.4 e ID.5 eccetera insomma quel giro di macchine lì quindi quello è fondamentalmente il giro di Cupra di tutte le macchine che appunto arriveranno da ora in avanti entro il 2025 poi entro il 2030 tutte le macchine saranno elettriche quindi il Cupra ha questa ambizione di puntare tutto all'elettrico fa strano però il fatto che abbiano presentato 5 macchine in una serata quindi la Leon Station, la Leon normale, la Tavascana, la Urban Rebel e la Terramar sono tante, 5 in un colpo, certo è un'intenzione di carazione di intenti ma è anche così, uno svelare un po' tante sorprese anche perché evidentemente di macchine pronte ne hanno ancora parecchie e quindi così è una voglia di farsi vedere però, non so, distribuirse un po' alla volta forse poteva essere anche quella una buona idea comunque, detto questo, linee belle perché le macchine sono sicuramente interessanti dal punto di vista estetico andiamo a vedere poi, vedremo poi cosa succederà dal punto di vista commerciale di sicuro sono macchine che strizzano l'occhio ad una clientela che cercano qualcosa di abbastanza speciale e Cupra sicuramente è in grado di rispondere meglio di tanti brand del gruppo Volkswagen con delle macchine che stanno piacendo moltissimo e che stanno andando tanto 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 in conquista verso gli altri brand con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare qui sotto vi auguro a passione per l'auto e full gas sempre ciao e a presto fatemi sapere cosa ne pensate della macchina e mi raccomando, cercate di aggiudicarvi il braccialetto, ciao ciao La Cupra Urban Rebel è più di solo un car per noi e per la nostra brand e questo sarà la prossima generazione di entrare nel range di Cupra e questo è un car che credo che potrà provare che i cari elettrici non devono essere abbastanza, ma possono essere emozionale, sexy e divertente come questo caro Ciao Grazie a tutti.